Un evento per far conoscere l'importanza dello sport nell'attività di politiche sociali, finalizzata all'integrazione tra persone affette da disabilità e persone normodotate, una relazione e una condivisione di azioni possibile, come dimostra il Baskin, sport di squadra che prevede la compartecipazione nello stesso gruppo di persone affette da disabilità e non. Ad approfondire il tema, domenica 5 marzo, sarà la cooperativa Il Sentiero in un evento promosso in collaborazione con il Comune di Sant'Arsenio e si svolgerà presso l'auditorium comunale amabile a partire dalle ore 11. Prevede una seconda fase in programma nel pomeriggio con la gara di campionato regionale tra la Sentiero Baskin e la Ischia Baskin. L'evento, dal titolo Baskin, lo sport incontra le politiche sociali, si soffermerà proprio sull'esperienza della compagine lanciata dalla cooperativa Il Sentiero come esempio di buona pratica nel panorama delle politiche sociali con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di questo progetto di comunità che va oltre l'assistenza sociale e la pratica sportiva, provando a stimolare la discussione tra gli attori del terzo settore e personalità del mondo universitario e sportivo. L'incontro, moderato dalla giornalista Stefania Marino, vedrà la partecipazione del sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica e del professor Paolo Landri, ricercatore del CNR impegnato nella conduzione di una ricerca sull'innovazione delle politiche sociali e nei regimi di welfare. La ricerca si focalizza sull'indagine del caso Sentiero Baskin come modello innovativo che utilizza lo sport per promuovere l'integrazione sociale e migliorare il benessere delle comunità locali. L'evento rappresenta un'opportunità per approfondire l'importanza dell'innovazione nelle politiche sociali e discutere di come lo sport possa contribuire a favorire l'inclusione e il benessere delle persone e delle comunità. Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle ore 14, la giornata si sposterà presso la palestra comunale di Sant'Arsenio per la partita di campionato regionale tra Sentiero Baskin e Ischia Baskin.